foodglory.com, trovate il link nella descrizione fateci un salto e buona visione 40.000 like per andare a prendere Salah, Man of the Match ragazzi, perché 40.000 like? Perché Salah, Man of the Match costa un botto di credit ragazzi, costa veramente un boato di credit, quindi vi prego di raggiungere i 40.000 like se appunto anche voi volete che vada a prendere Salah Man of the Match, mi raccomando e poi la prossima volta, semmai, giochiamo un po' con RpB Tossi Quain. Signori, intanto andiamo immediatamente a giocare con le nostre quattro leggende, un bel todi e il nostro SCB, non so come si chiamerà mai quello là dell'SBC de Buffon e tutti in forma, quindi una squadra che fa paura, ma ragazzi lì ci manca quel tocco di arancione, ci manca quel Salah lì davanti per andare a rompere il culo, cioè io per forza esigo che dobbiamo lasciare 40.000 like ragazzi, assolutamente, per forza, tutti insieme ce la facciamo senza problemi ragazzi, sono tanti ma ce la possiamo fare vediamo, il primo avversario aaaaaah l'allero e l'allero ma sai che squadra che ci sta a portare a questo Griezmann, Neymar, Lionel, Messi e Iniesta poi abbiamo dalla parte destra Serie A con Nainggolan, Manolas e Perez e poi di là abbiamo Sanchez Guateng e Jordi Alba e Alaba, scusate che Jordi Alba, mi sbaglio sempre con Alaba ma bella squadra ragazzi Rodi Giovanni è qui eh buono buono Nainggolan signori mamma mia il Raja mamma mia il ninja non sbaglia un colpo signori non sbaglia un cavolo di colpo il nostro ninja una grande e bella azione è grande il ninja che parte come il vento proprio, veloce come il vento e va a segnare all'altro palo bellissimo grande gol così subito un vantaggio 1-0 bello non volevo dare l'ansigne però va bene ormai oh madonna mia che ha fatto madonna madonna ragazzi che belle azioni colpello per i venti per Pjanic vai così signori 2-0 per noi ammazza che triangolare che stiamo a fare è tutto un triangolo tutto illuminato sta partita proprio buono 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 ci piace così ci piace così sto da 0 bello parti che partito oh oh oddio oddio di bala signori come gli ha ridotto il pallone di bala se la corre qua qui ha sbagliato tantissimo il difensore raga se l'ha mezzo fermato di bala prende il palo e va a segnare madonna raga vai buono così che sta vittoria ci serve come il sole proprio è vitale ragazzi è vitale sta vittoria ve lo dico questa ci è piaciuta questa ci è piaciuta 3-1 va bene ci sta si fa il balletto Griezmann con il telefono in mano ora lo faccio io un altro gol lo faccio vedere che è telefonata e te sparo mo dai buonissima questa per di bala dai di bala dai di bala 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 eccolo eccolo no non ha in golanna avevi fatto una cosa che era fantastica proprio te posso in ammassare latte marcamisa troppo lunga troppo lunga peccato 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 guardalo guardalo e viene deviata signori calcio d'angolo per noi forse coraggio forse coraggio forse coraggio forse coraggio mortiacci le pippo bello bello ma traversa traversa di alves bello salino bello salà bello salà madonna che bomba bella racia guarda che sfiga che sfiga che è sta mozzarella santa lucia bello ancora ancora mi tirate queste mozzarella al volo devi tirare una susina io lo devi spollegolare portiere eppela salà ancora salà ancora salà ancora salà ci prova e si va a conquistare il calcio d'angolo signori all'ottantasesimo buono 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 la dà al centro di testa line golan e la prende l'anticipa lui ma va bene eccolo era sciaco deviazione guarda guarda che roba la deviazione ma è così perfetto e finisce ragazzi prima vittoria per noi 1 a 0 giocherini ragazzi va a conquistarsi questi tre punti andiamo a quota 8 se non sbaglio dovremmo stare a quota 8 ragazzi perché siamo messi veramente veramente male ma intanto intanto la vittoria l'abbiamo presa ci siamo ragazzi secondo avversario vediamo un po' che squadra si parte signori seconda partita anche qui dobbiamo portarci a casa assolutamente assolutamente la vittoria ci portiamo a quota 11 se riusciamo bello il nano il nano guardalo signori sfortunatamente insigne fa un tiro della madonna ragazzi e prende il palo ma meno male che ci sta di bala subito che va lì a situazione raga meno male ma che sei matto che palo che ha preso insigne meno male che di bala va a segnare raga 1 a 0 per noi e tira e tira ce l'ha sta botta insigne ragazzi sono stato zitto perché ero proprio concentrato c'è il ridgequit c'è il ridgequit raga da che ha quitato da che ha quitato da che ha quitato da che ha quitato che sta sberloffa che qualcosa sta sentin male sperando che insieme ragazzi che mi ha un cazzo dovrebbe essere la sua ragazzi dovrebbe aver quitato lui però dovrebbe aver quitato lui e ha quitato lui signori e ha quitato lui 2 a 0 per noi vittoria così easy proprio ragazzi ci portiamo a quota 11 minchia ad un passo ad un passo ragazzi ad un passo da mantenere questa divisione perché siamo a 11 con 4 vittorie oh vengono un po' dei giocatori siamo a 11 con una vittoria andiamo a 14 e manteniamo per arrivare a 23 non ce la faremo mai perché sono 3, 6, 9 no oddio ragazzi cosa ne ce la possiamo ancora fare ragazzi cioè se noi vinciamo tutte e 4 le partite le vinciamo veniamo promossi pari pari perché abbiamo 11 punti e 12 punti se le vinciamo tutte e 4 sono 23 pari pari vinciamo il titolo attenzione non devo più perdere neanche una partita quindi potrebbero essere rimasti 2 video del ruolo di Giovanni quindi per questo che oggi non faccio la terza parte ragazzi non la faccio perché tanto poi già sono 25 minuti di video quindi vi verrà fuori 12 minuti di gameplay 10 minuti di gameplay quindi va benissimo signori questo video è giunto a termine io ovviamente spero vi sia piaciuto mi raccomando un bel posto in su commentate e condividete questo video ma siamo già facebook nel mio instagram shop online tutta in descrizione 40.000 like ragazzi ci andiamo a prendere sala man of the match ragazzi che costa un boato ci vediamo con un prossimo apportamento del vostro Gio Grigno bella signori e se state a vedere questo video forse sto facendo una live quindi vedete la video bella rega